Ci sarebbe una banda composta da nove ragazzi dai 14 e 17 anni all'origine dell'incendio appiccato ad una palma all'interno del camminamento al castello degli Ezzelini a Bassano, ad incastrarli le videocamere di sorveglianza. Gli inquirenti, in questo caso agenti della polizia del commissariato di Bassano, starebbero lavorando per il riconoscimento e l'identificazione, meglio se i responsabili si consegnassero spontaneamente.